3 6 11 10 12 13 13 14 16 16 17 16 18 18 19 20 20 20 Bai ma c'è ciò datà ieri di la plus Ha? Ciò datà ieri di la plus Ieri? Bucsà la plus? C'è ciò datà ieri? Serios? Bai di un'e io ciò, appa mia? Mi-a intrebat appa inattora Hai bai ma, ca fani La trei estima de aia Asta e chestia de aia in pat ca parat de apa minerală Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.